musica 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 con un nuovo tutorial in questo video vi mostrerò come creare questa cake roll kawaii in film vedete il video per capire come si fa se vi piace lasciate un like vi ricordo che nell'info box ci sono i miei link dei miei social di facebook e di instagram se non capite qualcosa scrivetevelo nei commentini, spero che il video vi piaccia e ci vediamo ad un prossimo video da Marte, soreteva, bye bye musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.